Partita importante domani pomeriggio per l'Unitas Shaka, che cerca punti preziosi sul campo del Dolce Onorio Marsala. Il tecnico Giuseppe Geraldi pretica attenzione e conferma che i neroverdi saranno costretti a rinunciare ad alcuni infortunati. L'obiettivo è quello di tornare alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive, una in campionato ed una in Coppa Italia. Lo deve affrontare con il massimo impegno, con la massima concentrazione, perché come hai detto bene tu, il Marsala non è più quello dell'inizio del campionato. Abbiamo poche informazioni, però sappiamo che hanno fatto acquisti di ragazzi di esperienza, che conoscono la categoria, quindi ci vuole lo Shaka migliore per andare a vincere Marsala. Ho visto un approccio importante da Grigento, ce la siamo giocate alla pari contro una squadra che, ricordo a tutti, è una squadra che in sostanza deve vincere il campionato. Sono contento della prestazione e non del risultato, ma siccome a noi servono i risultati, ovviamente a Marsala oltre alla prestazione mi aspetto sicuramente un risultato positivo, perché non ci può bastare la prestazione, ci servono i punti perché vogliamo cominciare a scalare la classifica. Il Ligata sta meglio, abbiamo, come capita spesso, avuto altre defezioni durante la settimana, quindi valuterò anche il fatto di chi ha giocato magari due partite domenica e mercoledì, perché dobbiamo gestire la fatica, però come ogni volta faccio farò giocare la squadra che ritengo più forte, che ritengo migliore per vincere questa partita. Abbiamo dei giovani interessanti, alcuni hanno esordito in Coppa, altri hanno esordito in campionato, forse uno solo degli aggregati che abbiamo ancora non ha un paio, non hanno ancora esordito, però ovviamente non li posso considerare giovani, li devo considerare grandi, perché comunque credo che alla loro età c'è gente che gioca anche in categoria superiore, quindi loro stessi devono pensare di essere grandi, di far parte di questa squadra e ne hanno diritto e quindi devono comportarsi come giocatori grandi. Nelle parole del centrocampista argentino Gonzalo Lavanca, il punto di vista della squadra è il suo ambientamento in città. Stiamo lavorando bene, il gruppo sta unito, possiamo passare il turno della Coppa, ma adesso la testa è piena nel campionato, adesso andiamo alla domenica a vincere. Io mi trovo benissimo con la squadra, con la città, con la società, tutto, stiamo lavorando bene, quindi piano piano, adesso dobbiamo stare tranquilli, la domenica è una partita più importante per noi, quindi dobbiamo affrontarla con il massimo rispetto contro la squadra avversaria, quindi andiamo là per vincere e fare tre punti. Io gioco nel centrocampo, tanto di play come del centrocampista offensivo, quindi sì, io mi adatto bene a questo ruolo. Speriamo che è pronto, speriamo che la domenica puoi segnare, ma se segno io o se segna oltre al giocatore della squadra va bene, è lo stesso. Speriamo che la domenica puoi segnare.